La società attuale è divisa tra gente onesta facente parte della classe media, e la cosiddetta casta. La casta vive nell'agio, il proprio benessere sottrae risorse a tutta la gente onesta, più aumentano gli appartenenti alla casta, e più la classe media si impoverisce. L'arricchimento della casta porta inesorabilmente ad aumentare il divario tra costoro e la classe media che oramai è stata ridotta allo stremo. Le nuove generazioni si vedono sottratto il lavoro e le risorse economiche da tutta una serie di personaggi che ha frotte si sono asserviti alla casta. In passato abbiamo assistito all'innalzamento di un muraglione che divide una classe opulenta disonesta da quella dei miserabili che per sfuggire da un destino ingrato tentano di scavalcare il muraglione per mettersi in salvo. Pochi ce la fanno a scavalcare il muraglione, e ottenere quindi qualche privilegio che gli possa garantire un qualche agio, agio che comunque andrà a discapito della collettività. Chi fa parte dei privilegiati, non vuole cedere l'osso, di conseguenza il popolo degli oppressi si sta organizzando per abbattere il muro e creare una società equa e solidale. La casta, abballata dalla grandissima fiumara di privilegiati, si stanno arroccando sulla propria posizione, questo immancabilmente porterà ad una rivoluzione incruenta perché è fisiologico che ciò che non si piega, si spezza. Le vittime della società, sono ridotte alla disperazione non per propria colpa, ciò che rivendicano, e il rispetto dei diritti costituzionali, la distribuzione del lavoro in maniera equa tra tutti, e la cancellazione di ogni beneficio che permetta al singolo privilegiato di arricchirsi, perché un arricchimento avvallato da regole corporative è un crimine che sottrae risorse a tutta la collettività. In un futuro prossimo, gli anziani non potranno andare in pensione perché la loro pensione se l'è presa un privilegiato prima di lui, e la gente sarà divisa da un muro sociale che separa ricchi da miserabili, tutto questo ci inorridisce, quindi l'unica alternativa è di combattere affinché questa prospettiva non si avveri. Dobbiamo lottare per un mondo giusto. Diviare, la sicurezza di ciò che fa diviare, la tranquillità della ripetizione. Porca vacca.